Seconda parte della nostra rassegna, andiamo immediatamente online tornando ad occuparci di calcio giocato, passando sulla gazzetta dello sport dove si parla di Coppa del Rei con il Real che batte il Siviglia 3-0, un'altra grande prestazione dei Blancos e poi il Siviglia KO 4-1 contro il Celta di Vigo, l'ex squadra di Prandelli va davvero malissimo al Mestaglia. Rodriguez invece inizia l'anno segnando una doppietta, Zidane ha tenuto anche a riposo Cristiano Ronaldo nel secco 3-0 rifilato dal Real Madrid al Siviglia che è detta praticamente legge e sostanzialmente si qualifica di fatto il prossimo turno con largo anticipo. Inizia l'anno nel migliore dei modi James Rodriguez, il colombiano firma una doppietta portando in vantaggio gli uomini di Zidane all'undicesimo del primo tempo servito da un perfetto assist di Casemiro e poi quando già il Real era su 2-0 con la rete segnata al 29esimo da Varane ha chiuso i giochi al 44esimo su rigore. Riposo appunto per Cristiano Ronaldo mentre Nambatosta che è stata rimediata dal Valencia dopo le dimissioni appunto di Cesare Prandelli guidato dal tecnico ad interim Voro Gonzalez il Valencia ha perso 4-1 al Mestaglia contro il Celta di Vigo. Un momento davvero molto pesante per i Valenziani. Dall'altra parte del calcio internazionale nella isola inglese c'è una Premier spettacolare perché il Tottenham li mette un po' tutto in gioco battendo 2-0 il Chelsea. Dele Alli ferma la corsa di Conte che si ferma dopo 13 vittorie di fila. Liverpool adesso a meno 5, naturalmente questo non deprime il rumore di Antonio Conte nonostante la grande prova dell'errore della serata. Dele Alli, autore della doppietta a capolavoro, si interrompe in questo modo la scena delle 13 incredibili vittorie consecutive del Chelsea di Conte che non riesce ad eguagliare le 14 di fila dell'Arsenal del 2002. È una sorta di vendetta perfetta per Mauricio Pochettino o Pochettino a seconda di come lo si voglia pronunciare. Il tecnico aveva visto infrangersi il sogno di vincere la Premier proprio contro il Chelsea lo scorso 2 maggio. Adesso è lui a riaprire la corsa al titolo con i Blues che rimangono comunque più 5 dal Liverpool, riduce dal pari contro il Sunderland e i Spurs, appunto i giocatori del Tottenham, salgono invece al quarto posto superando proprio l'Arsenal bloccato ieri sul 3-3. Una partita molto suggestiva con un Antonio Conte assolutamente sempre protagonista dalla panchina, Conte è stato anche nel post partita con una frase che è ricordata ad alcuni le famose encicliche, se possiamo definirle così, di Giuseppe Murigno. Diamo fastidio a qualcuno, dice il tecnico dei Blues che commenta in questi termini una sconfitta contro il Tottenham. Non eravamo tra le squadre che dovevano lottare per il titolo, invece lo siamo. Siamo in testa, ma evidentemente questo dà fastidio a qualcuno. Arriviamo dal decimo posto, l'allenatore è cambiato, i giocatori sono quasi gli stessi, nessuno si aspettava che fossimo così in alto ed è normale che dia fastidio a qualcuno. Il Chelsea quest'anno faceva parte di quelle squadre che non dovevano lottare per il titolo, ma noi vogliamo continuare a dare fastidio. Sicuramente c'è da essere contenti, perché abbiamo fatto una striscia di 13 partite ed è certamente quasi impossibile, certamente non facile in questo campionato. È sempre complicato trovare soluzioni positive, soprattutto a gennaio, per quanto concerne il mercato. Vedremo, dice Conte, se ci sarà la possibilità di fare qualcosa. E poi gli chiedono se resterà per sempre nei blues, come viene chiesto da diversi dirigenti. Lui dice, non è stato facile arrivare qui con una nuova lingua, una nuova filosofia di gioco, portando avanti idee nuove e il mio metodo. Abbiamo iniziato un percorso e ora vogliamo andare avanti e lavorare uniti, dice appunto Antonio Conte. Ovviamente poi si torna a giocare anche in Italia con il tanto atteso turno della diciannovesima giornata di Serie A. Queste sono le probabili formazioni con diverse partite importanti. Lo è ad esempio anche quella dell'Atalanta contro il Chievo per poter eventualmente continuare il sogno l'altissima classifica. Poi una sorta di spareggio tra Empoli e Palermo e si gioca appunto in casa dei Toscani. E poi l'attesa Genoa-Roma che si gioca il 4 gennaio alle ore 15. Si gioca l'8 gennaio alle ore 15. Genoa con il 3-4-2-1. La Roma con una sorta di modulo capovolto. 4-2-3-1. Genoa dovrebbe scendere in campo con Perin. Poi Itzo, Burdisso e Munoz come tre difensori. Poi Lazovic, Rigoni, Kofi e Lassalt saranno i sostanzialmente giocatori che accompagneranno Ocampos. E Ninkovic dietro la prima punta e il ciolito Simeone. La Roma invece potrebbe puntare, dovrebbe puntare, naturalmente ancora su Szczesny tra i pali. Rudiger poi in caso dovesse recuperare Vermale in indifesa con Fazio e Emerson. Oppure, non dovesse farcela Vermale, giocherebbe Rudiger con Fazio, centrale di difesa, con l'utilizzo di Bruno Perez, considerata la probabile rinuncia a Manonas, centrale di difesa. Centrocampo, probabilmente con due mediani come De Rossien e Strootman. Nainggolan più avanti trequartista. Le due punte esterne saranno Perotti e Elisciarawi ad accompagnare l'attaccante bosniaco Edin Dzeko. La Juventus domenica sera, dopo aver saputo già il risultato della Roma, affronterà lo Juventus Stadium la formazione del Bologna di Donadoni con il suo 4-3-3. Allegri invece schiera la sua Juve con il 4-3-1-2. Buffon, Licksteiner, Barzagli, Chiellini ed Evra in difesa. Chedira, Marchiso e Sturaro saranno i tre mediani che faranno da Frangiflutti a Pjanic. Trequartista, dietro le due punte, Mandzukic e Higuain. Il Bologna invece con Mirante, Kraft, Maietta, Gastaldello e Masina. Poi in mediana Viviani, Nagy, Gemayli e Murier. Mentre Murier si sposterà con Creici, molto probabilmente più sulle corsie esterne, ad accompagnare l'attaccante ex-romanista Mattia Destro con i suoi 10 sulle spalle. La Lazio affronta il Crotone in casa alle ore 15 di domenica con lo stesso modulo sia Nicola che Simone Zaghi con il 4-3-3. Quindi speculare nel suo schieramento in campo l'una e l'altra formazione. Marchetti, Basta, De Vrij, Wall, Stradu, Parolo, Biglia, Mininkovic, Chisna, Immobile e poi Lombardi. Questa la Lazio, Crotone probabilmente con Festa, Rossi, Ceccherini, Ferrari, Martella, Roden, Berbaris, Chirisetig, Palladino, Trotta e Falcinelli in attacco. E poi domenica, ma alle 18, c'è il Milan che sogna ancora l'altissima classifica. 4-3-3 per il Milan di Montella contro il Caglia. I Donnarumma tre pali, ovviamente Milan fresco vincitore della Supercoppa Europea. Abate, Paletta, Romagnoli, Antonelli, Cucca, Bertolacci, Pasalic, Suso, La Padula e Buonaventura nel tridente d'attacco. Il 4-3-1-2 di Rastelli prevederebbe Storari, Pisacane, Cipitelli, Bruno Alves, Capuano, poi De Sena, Taccidis, Munari e Gioao Pedro ad accompagnare Borriello e Farias, ovviamente attaccanti. E poi ancora sabato in anticipo 20.45 a San Paolo, Napoli-Sampdoria, Sarri con il suo consueto 4-3-3, Reina, Isai, Tonelli che trova un posto a titolare probabilmente con Maximovic a centro della difesa e Strinic a sinistra. Poi Genischi, Diavara che ritrova la titolarità, Amsic sul tre quarti spostato più in corsia. E le tre punte sono Kajegon, Insigne e il falso 9, Mertens con appunto poi il tempo che riporterà in campo anche Pavoletti. Il modulo della Sampdoria di Giampaolo invece è 4-3-1-2, Pugioni, Sana, Silvestre, Zreniac, Regini, poi Barreto, Torreira in odore di mercato, Linetti, Fernandez, Quagliarella e Muriel di punta. Anche lui ricercato dal mercato. Anche la Fiorentina cerca l'altissima classifica, prova il colpo in trasferta contro il Pescara che gioca con il 4-3-3 di Oddo che si affida al tridente Benali, Pettinari e Caprari mentre la Fiorentina avrà Kalenic come unica punta e ad accompagnarli ci saranno Chiesa, Illicice e Bernardeschi con Vesino e Borca Valero in cabina di regia. E poi il Torino che probabilmente farà esordire per la prima volta Manuel di Turbe con la sua nuova Maia che però si presenta con il 4-3-3 in casa del Sassuolo con Iago Falche, Belotti e Liaric come punta e naturalmente affronterà un Sassuolo con il suo consueto 4-2-3-1 di Di Francesco in questo caso le punte saranno Ragusa, Matri e De Frel, anche lui in odore di mercato. Con questa notizia noi ci prendiamo un attimo di pausa, torneremo con la terza e l'ultima parte della nostra segna.